Non le corte, vi ricordiamo di questa condizione, viene tutta attraverso l'etro e l'etro e l'etro e l'etro, insomma questo era per ricordare che ormai da GR siamo in nostra compagnia, tantissimi gli ascoltatori che abbiamo ricevuto, tantissimi nuovi ascoltatori, ma che noi ci siamo all'inizio e che abbiamo conquistato strada facendo. Noi siamo estremamente contenti di quello che stiamo facendo e il più declama ogni settimana è sempre sempre nuovi pubblici, sempre nuovi contenuti, sempre più numerosi all'ascolto e non dimenticato di farci sapere, ad esempio, la qualità della ricezione, migliando i rapporti di ricezione ad ibc.com, ma anche semplicemente un commento o un giudizio sulle nostre tradizioni. Lo potete fare, ridendoci alla fine, dall'elettronica, ma anche utilizzare Facebook e Twitter, dove noi siamo sempre presenti. Non dimenticate che la prossima settimana saremo in piena con la posta degli ascoltatori. A sua ora, a Palorama Orde Corpi. Grazie.